Salve a tutti ragazzi, sono Gary Perimi, in questo video sono qua per dirvi dei problemi di Reddit che praticamente Reddit è conosciuto come una plataforma per notizie eccetera per pubblicare contenuti così qualche professionario o quello che è, ma il problema è che su Reddit se ci sarà creduto una mentalità ci siano persone che hanno mentalità strane oppure mentalità veramente in mente proprio ristrette o anche proprio ristettive o quello che è da qui inquilino anche persone che sono letteralmente cafone a gente che letteralmente può decidere di banditi a caso per motivi futili tipo, oppure banditi per tipo 30 giorni che è quasi un mese in certi casi solo però è pubblicato, magari solo però è pubblicato anche un qualcosa di tipo di low effort ovvero non che si è piegato qualcosa di scarso, che è stupido è gente che praticamente ha mentalità completamente fuori di testa su Reddit proprio Reddit può essere banditi da sub-edit anche per motivi futili e cretini soprattutto per essere scacciati così proprio una persona che è proprio inconsciente per le bandite e basta che non all'azardtarsi ad usare un account alternativo se no si è liberato permanentemente e cosa può capitare? si è ribaldito anche perché si è liberato per esempio perché sei scavato con un minorengh anche se ci sono minorengh e un bambino di 13 anni vieni e anche così Purtroppo il subreddit funziona veramente da schifo altre volte E il diffuserà da schifo e non le posso ricanciare il subreddit Quindi, grazie, quindi Così ragazzi, proprio I problemi ce ne sono ovunque Quindi non possiamo farci niente Salve a tutti